il baricentro c'è non tutti riescono a riconoscerlo e soprattutto a mantenere il giusto equilibrio del baricentro in questo caso troviamo il baricentro della zappetta una sola adesso vi faccio vedere ecco qui allora questo di baricentro eccolo qui vedete è molto sensibile molto sensibile molto sensibile il baricentro della zappetta è molto sensibile vedete questo è un baricentro questo vedete è in equilibrio precario ecco ecco beh anche questo è il baricentro guardate l'altro baricentro è questo qui quanti baricentri ci sono grazie a tutti